ed ha fatto ancora un passo per venirmi vicino signore gli ho detto respingendolo vi ringrazio nuovi scoppi di risa alla mia risposta signore è un marchese un marchese l'ha interrotto senti amico ho bisogno di raccogliermi un po' lasciami stare la gravità delle mie parole lo ha reso pensierose di colpo ha scosso la testa grigia e quasi calva e poi grattandosi il petto villoso che appariva nudo sotto la camicia aperta ha mormorato tra i denti già capisco effettivamente il prete aiuta poi dopo qualche istante di silenzio guardate mi ha detto quasi timidamente voi siete un marchese ed è una gran bella cosa ma avete una magnifica giacca che non vi servirà più a granché il palco se la prenderà datela a me che la venderò per comprare del tabacco mi sono tolto la giacca e gliel'ho data si è messo a battere le mani con gioia infantile poi vedendo che ero in camicia e che battevo i denti voi avete freddo signore mettetevi questo piove e vi bagnerete tutto e poi bisogna stare decolosamente sulla carretta così dicendo si è tolto il maglione di lana grigia e me l'ha dato in mano io lo lasciavo fare stavo appoggiato al muro e non saprei nemmeno dire che razza di impressioni mi facesse quell'uomo era messo ad esaminare la giacca che gli avevo regalato e ad ogni momento mandava un grido di gioia le tasche sono completamente nuove il colletto non è usato per niente ne ricaverò almeno 15 franchi che fortuna tabacco per tutte e sei le settimane si è riaperta la porta venivano a cercarmi entrambi me per portarmi nella camera dove i condannati aspettano il momento lui per portarlo a Bissetra ridendo si è messo in mezzo al picchetto che doveva portarlo via e diceva ai gendarmi ah badate non vi sbagliate il signore e io abbiamo cambiato giacca ma non prendetemi al suo posto diavolo non mi piacerebbe proprio specie ora che ho modo di avere del tabacco questo vecchio scellerato mi ha preso la giacca poiché io non gliel'ho certo regalata e mi ha lasciato questo straccio il suo maglione infame chissà che aria avrò preso non gli ho certo lasciato prendere la mia giacca per indifferenza o bontà no ma perché era più forte di me se gliel'avesse rifiutata mi avrebbe picchiato con i suoi grossi pugni ma sì bontà ero pieno dei peggiori sentimenti avrei voluto poterlo strozzare con le mie mani vecchio ladro poterlo pestare sotto i piedi mi sento il cuore pieno di collo e di rabbia credo che mi sia scoppiata la vescichetta della bile la morte rende perversi mi hanno portato in una piccola cella dove non ci sono che i quattro muri e non c'è bisogno di dirlo molte sbarri alle finestre e molti chiavistelli alla porta ho chiesto un tavolo una sedia e lo corrente per scrivere mi hanno portato ogni cosa ho chiesto un letto il secondino mi ha guardato con uno sguardo stupito che sembrava dire è per fare che tuttavia hanno sistemato una branda in un angolo ma nello stesso tempo un gendarme è venuto ad installarsi in quella che si chiamavano la mia stanza hanno paura che mi strangoli con il materasso sono le dieci mia piccola bambina ancora sei ore e sarò morto sarò qualcosa di immondo che si trascinerà su un freddo tavolo anatomico una testa che taglieranno da una parte un tronco che sezioneranno dall'altra e poi di tutto quello che resterà riempiranno una bara e ogni cosa finirà a clamar ecco cosa stanno per fare di tuo padre questi uomini di cui nessuno mi odia che tutti piangono e che tutti potrebbero salvare e si stanno per uccidermi capisci questa cosa Maria? uccidermi a sangue freddo con una cerimonia per il bene pubblico ah, grandio povera piccola tuo padre che ti amava tanto tuo padre che baciava il tuo piccolo collo bianco e profumato che continuamente ti passava le mani sui riccioli come su di una seta che stringeva il tuo visuccio tondo tra le mani e ti faceva saltare sulle ginocchia e la sera univa le tue piccole mani per pregare Dio chi ti farà tutto questo ora? chi ti amerà? tutti i bambini della tua età avranno un papà tranne te come farai figlia mia a dimenticarti di capodanno delle strene dei bei regali dei dolci e dei baci come farai povera orfana a dimenticare di bere e di mangiare oh se quei giurati l'avessero vista almeno la mia piccola Maria avrebbero capito che non bisogna uccidere il papà di una bimba di tre anni e quando sarà grande seppure ci riesce che cosa diventerà? suo padre sarà uno dei ricordi del popolo di Parigi arrossirà di me e del mio nome sarà disprezzata e spinta abbietta per colpa mia di me che l'amo con tutta la tenerezza del cuore oh mia piccola Maria amata davvero tu avrai vergogna ed orrore di me miserabile che delitto ho commesso e che delitto faccio commettere alla società davvero è sicuro che io morirò prima della fine del giorno davvero si tratta di me questo baciare confuso che sento di fuori questa moltitudine di gente allegra che si appretta già per le strade quei gendarmi che si preparano nelle caserme quel prete vestito di nero quel uomo dalle mani rosse sono per me sono io che vado a morire io io stesso che è qua che vive che si muove che respira che è seduto a questo tavolo il quale assomiglia a qualsiasi altro tavolo e potrebbe ben anche essere altrove io infine questo io che tocco e che sento e il cui il vestito fa questa piega se almeno sapessi com'è fatta quella cosa e in che maniera si muore là sotto ma è orribile io non lo so il nome stesso della cosa è spaventoso e non capisco proprio come l'abbia potuto scrivere e pronunciare fino ad ora la combinazione di quelle dodici lettere il loro aspetto e la loro fisionomia è ben fatta per suggerire un'idea spaventosa e il maledetto medico che ha inventato la cosa aveva davvero un nome predestinato l'immagine che ci attacco a quell'odiosa parola è vaga e indeterminata è tanto più sinistra perciò ogni sillaba è come un pezzo della macchina e io ne conosco e demolisco senza posa la mostruosa intelaiatura dentro la mente io non oso fare una domanda su tale argomento ma è orribile non sapere cos'è né come si prende sembra che ci sia una specie di piano inclinato e che vi stendano sul ventre ah i miei capelli diventeranno bianchi prima che mi cada la testa una volta però l'ho intravista un giorno passavo per la piazza di Greve in carrozza verso le undici del mattino all'improvviso la vettura si fermò c'era folla nella piazza misi la testa allo sportello la plebaglia ingombrava l'ampio spazio e il lungo Senna e donne uomini e ragazzi erano in piedi sul parapetto al di sopra delle teste si vedeva una specie di palco di legno rosso che tre uomini stavano drizzando un condannato doveva essere giustiziato proprio in quel giorno e si impiantava la macchina io girai la testa prima ancora di aver visto a fianco della carrozza c'era una donna che diceva a un bambino guarda la lama non scivola bene stanno spalmando la scanalatura con la cera di una candela è là probabilmente che loro sono ora le undici sono appena suonate certamente spalmano la scanalatura questa volta disgraziato non potrò girare la testa la grazia la grazia può darsi che me la facciano la grazia il re non è mica in collera con me che si cerchi il mio avvocato presto l'avvocato ma sì preferisco i lavori forzati cinque anni di galera diciamolo pure vent'anni o per sempre con il ferro rosso anche ma la grazia della vita un forzato infine cammina ancora va e viene vede il sole il prete è tornato ha i capelli bianchi l'aria molto dolce è una figura che incute rispetto effettivamente è un uomo eccellente e amorevole questa mattina l'ho visto vuotare il suo portafoglio nelle mani dei prigionieri ma come mai dunque la sua voce non mi commuove come mai egli non ha ancora detto niente che mi abbia preso per l'intelligenza o per il cuore questa mattina ero fuori di me ho appena sentito quello che mi ha detto tuttavia le sue parole mi sono sembrate inutili ma sono rimasto indifferente esse sono scivolate via come questa fredda pioggia su questo gelido vetro tuttavia quando poco fa è ritornato la sua vista mi ha fatto bene tra tutti questi uomini è per me l'unico che sia ancora uomo e mi ha preso una sete ardente di buone e consolanti parole ci siamo seduti lui sulla sedia io sul letto mi ha detto figlio mio mi si è aperto il cuore poi ho continuato figlio mio credete in dio? sì padre mio gli ha risposto credete nella santa chiesa cattolica apostolica e romana beh volentieri gli ho detto figlio mio ha ripreso voi avete l'aria di dubitare? allora si è messo a parlare ha parlato a lungo ha detto molte parole poi quando ha creduto di aver finito si è alzato e mi ha guardato per la prima volta dopo l'inizio del suo discorso chiedendomi e allora? vi assicuro che lo avevo ascoltato con avidità all'inizio poi con attenzione poi con ossequio mi sono alzato anch'io a reverendo gli ho detto mi lasci solo la prego non mi ha chiesto quando dovrò ritornare? glielo farò sapere allora è uscito senza collera ma scuotendo la testa forse mormorando una preghiera forse pensava che io ero un empio no per quanto in basso io sia caduto non sono un empio e dio mi ha testimonio che io credo in lui ma cosa mi ha detto questo vecchio? niente di sentito niente di commosso niente di sofferto niente che venisse dal suo cuore al mio niente che fosse suo per me e poi aveva l'aria di recitare una lezione già recitata venti volte di ripassare un tema un po' dimenticato a furia di essere saputo e come avrebbe potuto essere altrimenti? questo prete è il cappellano titolare della prigione il suo compito è di consolare ed esortare e di questo egli vive i forzati i condannati sono l'oggetto della sua eloquenza li confessa e li assiste perché questo è il suo lavoro è invecchiato portando a morire gli uomini da molto tempo è abituato a quello che farà brividire gli altri i suoi capelli ormai bianchi non si rizzano più il bagno e il palco sono cosa di tutti i giorni per lui è disincantato probabilmente è il suo libricino questa pagina agli ergastolani quest'altra pagina è condannati a morte a vigilia lo si avverte che ci sarà qualcuno da consolare l'indomani alla tale ora e gli chiede di che cosa si tratta dalle otto o condannato a morte rilegge la pagina adatta e poi viene in questo modo succede che quelli che vanno a Tolone e quelli che vanno alla greve sono un luogo comune per lui e che lui è un luogo comune per loro che mi si vada dunque a cercare al posto di quello qualche giovane coadiutore qualche vecchio curato a caso nella prima parrocchia che capita che lo si prenda dal suo cantuccio vicino al fuoco mentre legge il breviario e non si aspetta niente che gli si dica c'è un uomo che sta per essere ucciso e bisogna che siate voi a consolarlo bisogna che voi siate là quando gli legheranno le mani e gli taglieranno i capelli che voi saliate sulla sua carretta con il vostro crocifisso per nascondergli il boia che siate sballottato con lui dal selciato fino alla greve che attraversiate con lui l'orribile folla setata di sangue che lo abbracciate ai piedi del palco e restiate là fino a che la testa sia da una parte e il corpo dall'altra allora che me lo portino tutto palpitante tutto rabbrividente dalla testa ai piedi e io mi getti tra le sue braccia alle sue ginocchia e lui piangerà e noi piangeremo e lui sarà commosso ed io sarò consolato il mio cuore si scioglierà nel suo e lui prenderà la mia anima ed io il suo dio ma questo buon vecchio che cos'è per me cosa sono per lui un individuo della specie sfortunata un'ombra come lui ne ha viste ormai tante un'unità da aggiungere alla cifra delle esecuzioni forse può anche essere che abbia avuto torto a respingerlo così e lui che è buono e io che sono malvagio ahimè non è colpa mia è il mio alito di condannato che guasta e ammorba ogni cosa mi hanno appena portato la colazione hanno creduto che io ne dovessi avere bisogno una cosa delicata e fine un pollo novello mi sembra e altro ancora ebbene ho cercato di mangiare ma alla prima boccata mi è caduta ogni cosa di bocca tanto mi è parsa fetida e amara poco fa è entrato un signore con un cappello in testa che mi ha appena guardato poi ha aperto un metro e si è messo a misurare dal basso in alto le pietre del muro parlando a voce alta ora per dire è così e ora non è così ho chiesto al gendarme chi fosse sembra che sia una specie di geometra addetto alla prigione alla fine si è svegliata la sua curiosità sul mio conto ha scambiato qualche parola con il carceriere che lo accompagnava poi ha fissato per un momento gli occhi su di me ha scosso la testa con aria indifferente e si è rimesso a parlare a voce alta e a prendere misure finito il suo lavoro mi si è avvicinato dicendomi con la sua voce squillante caro amico mio tra sei mesi questa prigione sarà molto più bella e il suo tono sembrava aggiungere peccato che voi non ne godrete e quasi sorrideva il mio gendarme vecchio soldato incallito si è incaricato della risposta signore gli ha detto non si grida in questo modo nella camera di un morto l'architetto se n'è andato e io ero là come una delle tante pietre che misurava e poi mi è capitata una faccenda ridicola sono venuti a prendere il mio buon vecchio gendarme al quale ingrato egoista che sono non ho nemmeno stretto la mano un altro gli ha dato il cambio un uomo con la fronte bassa e due occhi da bue io del resto non avevo fatto nessuna attenzione alla cosa seduto davanti al tavolo giravo la schiena alla porta e cercavo di rinfrescarmi un po' la fronte con la mano mentre i pensieri mi agitavano la mente un colpo leggero battutomi sulla spalla mi ha fatto girare la testa era il nuovo gendarme con cui ero solo ed ecco come ha cominciato a parlarmi criminale avete del buon cuore no gli ho detto la bruschezza della mia risposta sembrò sconcertarlo tuttavia ripreso esitando non si è cattivi per il piacere di esserlo perché no gli ho replicato se non avete che questo da dirmi lasciatemi in pace scusate signor criminale ha risposto due parole soltanto ecco se voi poteste fare la fortuna di un pover uomo e non vi costasse niente non la fareste ho alzato le spalle siete diventato matto scegliete un bel vaso per bervi la felicità io fare la fortuna di qualcuno egli ha abbassato la voce e ha preso un'aria misteriosa che non si addiceva affatto alla sua figura idiota sì criminale proprio felicità proprio fortuna tutto questo mi potrà venire da voi ecco qua come io sono un povero gendarme il servizio è pesante la paga leggera il cavallo è a mio carico ed è la mia rovina ora io per controbilanciare gioco all'otto bisogna ben industriarsi in qualche modo fino ad ora per guadagnare non mi sono mancati che i buoni numeri ne cerco dappertutto di sicuri ma casco sempre solo vicino punto sul 76 ed esce il 77 ho un bel curarli non escono mai ancora un po' di pazienza vi prego e ho finito ecco ora ecco una bella occasione per me sembra scusate criminale che voi moriate oggi è certo che i morti che si fanno perire come voi vedono i numeri prima promettetemi dunque di venire domani sera a voi cosa costa a darmi tre numeri tre numeri buoni io non ho paura degli spiriti state tranquillo ecco il mio indirizzo caserma popencourt scala in fondo al corridoio mi riconoscerete bene no venite pure anche stasera se per voi è più comodo non mi sarei degnato di rispondere a quell'imbecille se una folle speranza non mi avesse attraversata la mente nella posizione disperata in cui sono si crede in certi momenti di poter rompere una catena con un capello